Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Non lasciare che mettano quei moli fuori uso! Le imbarcazioni che stanno usando non sembrano un gankè, ma riusciranno a scatenare l'inferno se attaccheranno in massa! Dovrai tenerle impegnate con i tuoi isram e le bombe! Gli isram sono progettati per gli aerei, quindi dovrai essere veramente vicino per agganciarlo! Tuttavia, riceviamo altri contatti! Sembrerebbe che vi siano attivi dei nemici! Continuo a tenerli sotto pressione, ero fuori! Attenzione! Versaglio centrato! Ottimo volo! Ma non abbiamo ancora finito! Missione fallita! Spiacente! E' ora di ritirare le nostre difese! Cosa è stato? Downtown! Alcuni sabotatori hanno colpito i moli piccoli! Li dobbiamo bloccare! Ottimo volo! Ma non abbiamo ancora finito! Abbiamo notizie dall'Utel! Sabotatori sull'isola! E' ora di ritirare le nostre difese! Cosa è stato? Downtown! Alcuni sabotatori hanno colpito i moli piccoli! Li dobbiamo bloccare! Fa' attenzione! Si confondono con gli edifici civili! Non aprire il fuoco se non sei sicuro! Dall'azione! Non rendono le cose facili! A ore 6 lassù! Ci sono altri caccia-nemici in arrivo! Gli altri piloti cercheranno di tenere quei caccia-nemici lontani da te! Attento a ore 6! Fa' con calma Downtown! Bisogna fermare quella jeep senza fare vittime fra i civili! In arrivo! Ottimo Downtown! Quei sbrufoni sono più intelligenti di quanto pensassimo! Una seconda jeep è in arrivo verso la torre 1! Intendono colpire le torri di comunicazione! Voglio impedirci di coordinare la nostra difesa! Downtown! Fermiamo la jeep prima che giunga la torre! I motori saranno in fiamme! Bel volo Downtown! Ma ne rimane ancora una! Una jeep sulla strada verso la torre Comunicazioni 2! Bisogna eliminarlo prima che faccia guai sedi! Quella jeep sta andando piuttosto velocemente! Devi puntarla ora! Bel lavoro! Ha eliminato i stavoltatori! Questi caccia-nemici stanno ancora dando problemi! Toglili di mezzo in fretta! Bersaglio centrato! Bersaglio agganciato! 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 Non importa che quegli affari stiano su per miracolo! Se si avvicinano abbastanza da sparare, il colpo sarà davvero duro per noi! Bisogna mantenere la pista operativa per consentire alle difese di muoversi! Downtown! Manda quegli affari giù sul fondo dell'oceano! Immediatamente! Questo mi è completamente addosso! Quota bassa! Siamo dietro! Quegli agganciati spareranno molto presto! Blocca l'infretta! Hai capito? Le pattuglie segnalano l'arrivo di altri caccianemici! Resta in guardia! Un tipo veramente perfetto! Continua così! Spingere verso l'alto! Tieni lì sotto pressione! Si piegheranno! Quei caccianemici ci bloccheranno tutto il giorno se non ti occupi di loro, downtown! Le imbarcazioni sparano! Messili sulla pista di volo! Mantieni alta la pressione! E' finita! Questo mi è completamente addosso! Attenzione, quota bassa! Fatto! Indevoliamoli un po'! Sei quasi sopra di loro! Ottimo volo! Stanno bersagliando la pista di volo, downtown! Muoviti! Attenzione! Ci sono altri aerei nemici in arrivo! Ripeto! Un altro gruppo di caccianemici in arrivo! No, va bene! Distruggi qui caccia, downtown! Muoviti! Versaglio agganciato! Versaglio distrutto! Versaglio agganciato! Versaglio abbattuto! Versaglio agganciato! Versaglio distrutto! Dannazione! Usalo qui caccia come copertura per muovere una lancia missili! Downtown! Ti devi liberare e passare a quella! Veloce! Se inizi a lanciare i missili guidati! Missile lanciato! Abbattile! Affonda l'imbarcazione prima che le possa lanciare altri! Se colpiscono il versaglio faranno un inferno! Muoviti downtown! Nuovo versaglio! Questo servirà a sistemare qui caccia! Ma questa lancia missili sta ancora dando problemi! Muoviti downtown! Agganciato! Eccolo! Eccolo! Siamo stati colpiti! Affondiamo l'imbarcazione ora! Downtown! E' chiaro? Spingere verso l'alto! Un altro missile! C'è un altro missile in arrivo! L'imbarcazione è sistemata! Ma c'è un altro missile in arrivo! Toglielo di mezzo veloce! Agganciato! Il radar non rileva altri nemici là fuori! Sembrerebbe tutto libero! Porta giù l'aereo per la manutenzione! Non so dove diavolo abbiano recuperato tutto quell'attrezzatura pesante! Ma credo che non abbiano ancora finito di attaccare Briga! Missione riuscita! Grazie! Grazie.